Allora ragazzi, sono Lorenzo Valentini e sono un Growth Strategist dello sviluppo sostenibile. La mia grandissima passione è quella di aiutare gli imprenditori e le aziende a raggiungere degli importanti risultati. In che modo? Grazie alle stesse strategie della natura. In questo video voglio parlarti di una strategia fondamentale della natura. È una strategia che adotta veramente in qualsiasi contesto e non solo, noi stessi facciamo parte di questa grandissima strategia. Sto parlando della biodiversità. In che modo possiamo creare un progetto o un'azienda che adotti le stesse strategie della biodiversità? Ma andiamo a vedere in concreto che cos'è la biodiversità. La biodiversità è una strategia. In poche parole la natura, se deve fare le cose, ne fa tante e tutte diverse. Questo perché? Perché così ha più chance di sopravvivere al cambiamento. Se invece di avere una, due, tre possibilità differenti, ne ha centinaia, migliaia, centinaia di migliaia di possibilità, avrà molte più chance di fare in modo che soltanto alcune vadano avanti e si evolvano. Questo perché? Perché come tutti quanti noi sappiamo, un qualcosa quando non serve più, non ha più lo scopo di esistere, ovviamente scompare e muore. Stessa cosa non funziona soltanto con gli animali, con gli esseri umani o con le specie viventi, ma funziona anche con il nostro cervello, con i nostri pensieri. Tutto ciò che non serve più si estingue. Mettiamo caso che magari stiamo vivendo un periodo difficile, in un periodo difficile avremo dei pensieri molto negativi o comunque saremo incentrati ad avere dei pensieri negativi. Quando questo periodo finisce, finiscono anche i pensieri negativi. Questo perché? Perché appunto quando un qualcosa non serve più si estingue. Ma andiamo a vedere effettivamente quello che serve a noi, cioè qual è il concetto di biodiversità all'interno dell'azienda. Beh, innanzitutto trasformiamola in concetto di diversità. Cioè diversificare il più possibile ti permette di avere maggiori chance di successo. Quindi avere un pacchetto di possibilità differenti, quindi anche magari avere più asset all'interno delle aziende, avere magari una parte formativa per esempio, una parte relativa a dei prodotti fisici, avere una parte relativa a degli eventi, eccetera eccetera, così potrai continuare, ti permette di avere maggiori chance di successo. Prima di tutto, se un asset fallisce, ce n'è subito un altro che può andare a sostituirlo. Questa cosa mi è successo per esempio nell'azienda BioApi, che avevamo un asset che è quello per esempio relativo alla produzione di miele, che negli ultimi anni ha avuto un calo veramente enorme e ha avuto invece un incremento veramente elevato, quello di produzioni di api e anche quello relativo alla formazione. Quindi noi non abbiamo risentito di una crisi fortissima che invece tantissime altre aziende hanno vissuto proprio perché erano iper specializzate in un unico prodotto. Quindi diversificare ti permette di raggiungere dei risultati proprio nel lungo periodo, ti permette anche di affrontare con maggior fermezza, anche con maggior tranquillità quelli che sono i cambiamenti che tutti noi siamo sottoposti ad affrontare durante la nostra vita. Ma bisogna fare anche un po' attenzione al concetto di settorializzazione. Cosa significa? Che quando andiamo a comunicare alle persone, quando andiamo a comunicare a un nostro ipotetico pubblico bisogna settorializzarsi. Che cosa significa settorializzarsi? Significa andare a puntare ad un target specifico. Perché è vero che bisogna diversificare l'offerta, ma diversificare anche troppo, diversificare a troppe persone non ci permette di andare a fare focus in maniera precisa, concentrare tutti i nostri sforzi, tutta la nostra energia, su un target specifico di persone. Oltretutto se noi non andiamo a comunicare a un target specifico, soprattutto in un contesto storico come questo, dove c'è una diversità pazzesca sia di aziende ma anche di persone, non ci permetteremo di andare a comunicare in maniera privilegiata, aprire un canale preferenziale, quindi essere empatici con le persone che abbiamo di fronte. Questa è la cosa che pochissime aziende fanno. La maggior parte delle aziende comunica in maniera poco settoriale, comunica alla massa. Il problema è che magari io che sono un ingegnere, o lui che magari fa l'infermiere, o un altro che fa il designer, hanno dei modi di vivere completamente differenti. Magari poi lui ha una famiglia, magari l'altro invece non vuole dei bambini ma è uno sportivo e così potrei continuare all'infinito. Quindi bisogna andare a specializzarsi su un target veramente molto specifico per andare a creare dei prodotti che siano straordinari per lui, dei valori che siano straordinari per lui. E non possono che essere straordinari proprio per questa specificità. Se noi non andremo a settorializzarci non potremo neanche creare dei prodotti che siano percepiti come straordinari, che siano effettivamente poi anche straordinari, che cambino la vita delle persone. Perché un prodotto che va bene a tutti non va bene per nessuno. Un prodotto che va bene a tutti non va a esaudire, può risolvere effettivamente un problema che ha un cliente specifico. Ma andrà più o meno a tirare un po' in mezzo al gruppo. A vedere, sì, proviamo a risolvere questo problema che tutti quanti hanno, però non lo posso fare in maniera troppo specifica perché altrimenti rischio di scontentare sempre qualcuno. Ed è così ragazzi che funziona la biodiversità. L'ho già spiegato in un altro video dove spiego in che modo ci possiamo differenziare rispetto ai competitor. Ed è proprio questo concetto di biodiversità che ci permette proprio di differenziarci, ci permette di essere considerati straordinari. Ovviamente poi dobbiamo fare in modo che le aspettative dei nostri clienti siano giuste, quindi dobbiamo andare effettivamente a risolvere i loro problemi. In che modo funziona grosso modo la natura? La natura all'interno delle proprie nicchie ecologiche, che ecologica è il ruolo che occupa una data specie all'interno dell'ecosistema, si è specializzata nell'accaparrarsi determinate risorse. Pensiamo un uccello dal becco lungo, un uccello dal becco corto, o magari un pesce che riesce a sintetizzare l'ossigeno nell'acqua in maniera differente, quindi magari vive più nel fondale o magari un altro vive più sulla superficie. Quindi è molto importante specializzarci perché è molto importante crearci il nostro ecosistema dove non ci sono competitor, dove noi non dovremo competere con nessuno all'interno della nostra nicchia ecologica. E questo è molto importante. È molto importante perché tu mi dirai, sì Lorenzo, è vero che non hai competitor ma non hai neanche clienti. Perché effettivamente andare a creare una nicchia che non esiste significa posizionarci in un posto dove non ci sono clienti. Ma pensate che la nostra azienda è stata la prima in Italia insieme ad altre quattro ad aderire alla certificazione biologica nel settore. E quando allora Marco fondò l'azienda Bioapi dove io adesso sono presidente, posizionò l'azienda in una nicchia differente. Allora non esisteva apicoltura biologica, esisteva soltanto apicoltura. Quindi si era differenziato. Ha cominciato a comunicare, magari comunicando in maniera inconsapevole il suo posizionamento, ma lo faceva semplicemente per valori personali. Non so, andava magari ai mercatini e diceva alle persone guardate comprate il mio miele perché è fatto in questo modo, differente dagli altri. Oppure comprate questo prodotto perché lo tengo lontano da fonti di inquinamento. E così lui piano piano ha cominciato ad attrarre tramite la sua comunicazione, in questo caso inconsapevole, persone simili a lui, persone con valori simili. Perché nel momento in cui esisteva soltanto la nicchia apicoltura c'erano persone che sentivano che quel tipo di prodotto non era giusto per loro. E a un certo punto è uscito Marco con questa nuova azienda e ha cominciato a creare un prodotto che era più simile a loro. E quindi ha cominciato ad attrarre persone simili perché, non so se ve l'hanno detto, ma non sono gli opposti che si attraggono ma sono le persone simili. Quindi ha creato una vera e propria nicchia differente che adesso si chiama apicoltura biologica e si è differenziata dall'apicoltura convenzionale. Ovviamente allora non esisteva apicoltura convenzionale. Apicoltura convenzionale nasce come nome per contrapporsi a quello di apicoltura biologica. Così si sono create due strade differenti e non sono competitor. Anzi, noi spesso abbiamo come competitor altri apicoltori biologici piuttosto che una apicoltura convenzionale perché chi non ha a cuore la biodiversità, chi non ha a cuore comunque un certo metodo lavorativo più etico, più sostenibile dal punto di vista ambientale non andrà mai a comprare un prodotto biologico. E quindi non sono dei nostri competitor. Abbiamo due nicchie completamente differenti. Non solo, una cosa bellissima che si viene a creare nel momento in cui tu crei una nuova nicchia ecologica è quella che spesso viene chiamato da altri leader di altre nicchie per effettuare per esempio delle convention, delle conferenze, delle lezioni addirittura perché sei considerato non competitor ma leader della tua nicchia e quindi avrai una visibilità veramente differente rispetto a quella che avevi prima. Quindi il primo step per utilizzare la prima strategia della natura, la biodiversità, è quella di andare a differenziarci creando una nicchia differente, una nicchia ecologica differente dove noi avremo il ruolo di leader, dovremo comunicare per posizionarci come leader all'interno della nuova nicchia ecologica. Poi a quel punto, una volta che abbiamo scelto la nicchia, dovremo avere una diversità di competenze. Ad oggi l'imprenditore è una persona che ha moltissime competenze trasversali rispetto a quelle proprio del proprio lavoro. esempio, se io faccio il meccanico oggi, non devo soltanto sapere come si monta o si smonta una marmitta, un motore eccetera eccetera, ma dovrò anche avere delle informazioni che mi permettono di restare nel mercato, quindi di marketing, avere delle informazioni riguardo al design, come si progetta un logo, come si scelgono dei colori efficaci se voglio magari vendere un certo prodotto. E queste sono informazioni importantissime. L'imprenditore deve sapere che deve avere per poi poterle delegare a dei professionisti. Ma perché quindi avere anche qui una diversità di competenze? Perché la diversità di competenze ti permette una maggior percentuale di possibilità di sopravvivere ai cambiamenti. Perché è come avere una cassetta degli attrezzi. Quando hai un problema, tiri fuori la competenza giusta, la competenza più o meno adatta per fare in modo di superare quel problema. E sta proprio alla nostra creatività il saper mescolare queste competenze che ci differenzia, che ci permette di differenziarci quindi rispetto anche agli altri. Perché una diversità di competenze ti permette di avere una maggior consapevolezza di cosa? Della complessità. Della complessità delle relazioni, dell'ecosistema in cui tu vai a lavorare. E questo ti permette di anticipare anche i cambiamenti, non soltanto di cavalcarli. Ti permette di andare a trovare quali sono quegli input, quelle leve che permettono proprio il cambiamento e quindi effettuarlo prima che possa succedere. E questo ti permette di avere un vantaggio grandissimo rispetto agli altri. Quindi il mio consiglio è sempre quello di investire costantemente nelle proprie competenze, soprattutto trasversali. Non è vero che a un meccanico non possa interessare un corso di cucito, ora sto esagerando, però effettivamente quel corso di cucito gli darà una prospettiva diversa della vita. O magari disegnare, o magari fare un corso di musica. È molto importante avere una molteplicità di competenze proprio per percepire la complessità come una, ricca di relazioni. Ed è dimostrato scientificamente che soprattutto in grandissimi periodi difficili, in periodi veramente di emergenza, le specie che hanno una non specificità di competenze sono più in grado di sopravvivere ai cambiamenti. Perché hanno più possibilità, hanno una adattabilità, hanno una resilienza maggiore rispetto a chi come specie sa fare semplicemente una o due cose. E ricordati sempre, soprattutto quando andiamo a progettare un'azienda che abbia questa grandissima strategia, di andare a guardare la diversità degli altri, non come qualcosa con cui competere o come un qualcosa di sbagliato, ma di cercare soprattutto di comprendere. Di comprendere in maniera più disinteressata possibile.